allora nuovo aggiornamento di continment breach 1.4.01 vediamo visto che ancora non vogliono aggiungere togliamo la intro perché mi annoia anche se hanno aggiunto i discorsi tra le quali sei giochi la guardia chiede ti piacciono i film di 9341 risponde no proprio riesco a vado a sciogliere cos'è il genere infatti cercherò così da correre il senso la riuscio a me poi c'è un cosa per chiudere i sono stato chiuso dalla porta insieme ad sgp.73 di narrativa ok se già iniziamo così vuol dire quindi slide c'è il mio gogo sgp 939 endotermico ma tanto chi lo conosce va bene tutti ok tranne quelli che non conoscono i sgp ma non dettagli perché ho 50 visualizzazioni nei alcuni video e mi fai commento perché sto gioco non carica pensi fido gli occhi e mi gioco il pieno volante e fido di nuovo e già siamo a 3 dislike 2 minuti di video senza fare niente però chiamerò carcceggio con sgp 175 이지 a qui per i territori e a qui per i territori ecco a due volte che si sopra si chiude torno e andiamo e andiamo a Ludica come so è la Ch原нь era ma ero fermo come ha visto in questo corso se sei fermo non ti vede vabbè comunque hanno eliminato la modalità 9th fox in questo corso se sei fermo non ti dovrebbe vedere almeno così c'è scritto l'inizio è normale qua mi posso anche piegare chiudiamo gli occhi chiudi chiudi chiudere ma non c'è un uomo, si bella è morta che tipo di libri? horror, scienze fiction qualcosa di così tu stai scherzando cosa? il tuo lavoro è diventato di horror e scienze fiction beh, in realtà ho pensato a scrivere un libro no offensi, ma ho già perduto l'interesse in quello che stai parlando ma che ecco va così veloce staguardi? ma nel merino non si vede niente non è vero ciao capito gli occhi non voglio va bene entro e se la vado sotto e se la vado sotto attravi il contatto con SCP-173 e poi vabbè, che cosa? oh, no! ops, non devo vedere io che... ma se... cosa succedono? non è giorno succedono con tegnare luce è cresciato al gioco